Si chiama significativamente Move for the Future, muoversi verso il futuro, un futuro in cui la conoscenza delle lingue straniere sarà basilare. E Move for the Future è il progetto per l'apprendimento delle lingue straniere promosso dalla Regione Veneto. I risultati dell'esperienza, rivolta agli studenti del terzo e quarto anno delle scuole superiori e del terzo ed ultimo anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale, sono stati illustrati a Bassano all'Istituto Einaudi. Siamo stati la prima regione ad investire risorse destinate all'apprendimento delle lingue straniere fuori dall'orario scolastico. Oggi senza una lingua straniera, osu dire senza inglese, non si va da nessuna parte, non si può lavorare, si fa fatica a studiare, si fa fatica a muoversi. I nostri ragazzi hanno bisogno di potenziamento delle lingue e la regione ha investito per ben 5.000 ragazzi in Veneto che l'anno scorso hanno fatto esperienza di lingua straniera. Il progetto ha coinvolto migliaia di studenti provenienti da tutto il Veneto impegnati in un percorso formativo che prevedeva anche due settimane di soggiorno all'estero. Un'opportunità didattica preziosa ma anche una piccola esperienza di vita per i tanti ragazzi che all'apprendimento della lingua hanno potuto unire la conoscenza diretta di un paese straniero, come ben documentato dai video girati a Londra dagli studenti dell'Istituto di Formazione Professionale Irigem di Rosà, proiettati anche nel corso dell'incontro alle Inaudi. I giovani hanno avuto la possibilità di fare aula, ma di non fare solo aula perché erano inseriti in famiglie, in strutture in cui comunque dovevano e potevano parlare la lingua inglese e poi naturalmente c'è stata anche una forte interazione con il territorio. Un'esperienza preziosa quella di Move for the Future anche in prospettiva di un futuro lavorativo. Il Veneto, da tutte le analisi che sono state fatte ultimamente, ha ripreso i livelli pre-crisi per ciò che riguarda l'export. Noi abbiamo delle eccellenze per ciò che riguarda i nostri ragazzi in esito scolastico. La criticità riguarda comunque non solo l'Invento ma tutta Italia il problema della lingua. Oggi abbiamo bisogno dei nostri ragazzi che sono già preparati e che siano anche preparati nella lingua.